Sparatoria tra rivali, scattano sette arresti, i carabinieri hanno seguito stamattina sette misure cautelari dopo aver fatto luce sul tentato omicidio dei fratelli Raitano del 2 ottobre del 2019, arrestati sia i fratelli Raitano che i rivali dei Trubia, alla base del tentato omicidio la supremazia territoriale negli affari illeciti. Contagi in calo verso un lento ritorno alla normalità. Anche la recente campagna straordinaria di tamponi in città avviata dall'ASP la scorsa settimana conferma il trend positivo di questi giorni. Su 3.000 tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza sono pochissimi i casi di positività al virus. Il dato provinciale è oggi tra i più bassi della regione. Considerato il trend positivo di questi giorni, il manager dell'azienda sanitaria Alessandro Caltagirone non esclude una nuova riorganizzazione dei reparti degli ospedali per un progressivo ritorno alla normalità. Matrimoni in mascherina. L'amore al tempo del virus. Rocca e Aurora stamattina hanno coronato il loro sogno d'amore sposandosi all'interno dell'ufficio dello Stato Civile del Comune. È il terzo rito civile da quando il sindaco ha ridato via libera alla celebrazione dei matrimoni. impossibile per ora svolgere la festa con gli amici e il resto dei familiari ma il momento per ritrovarsi tutti assieme ci sarà ed è solo rimandato anche perché il sogno di Aurora è sposarsi in chiesa con un bell'abito da sposa. Ipa Baldisio, La Fenice licenze i dipendenti. Dopo lo stop ai contratti che legavano l'Ipa Baldisio e la società privata La Fenice, ieri i vertici hanno inoltrato una missiva per il licenziamento collettivo di 10 dipendenti tutti a carico della stessa società. Ora si apre il fronte occupazionale. Misure di rilancio alle parti sociali non convocate. Fino a ieri nessuna convocazione dal sindaco Lucio Greco. Sindacati, organizzazioni datoriali e ordini professionali attendono che si possa ritornare a discutere delle misure per il rilancio economico dopo l'emergenza covid. Allo Stato l'amministrazione comunale non ha varato un vero e proprio pacchetto di interventi mirati. Benvenuti al consueto appuntamento con il nostro telegiornale. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. I carabinieri hanno eseguito stamattina sette misure cautelari dopo aver fatto luce sul tentato omicidio dei fratelli Raitano del 2 ottobre del 2019. Arrestati sia i fratelli Raitano che i rivali dei Trubia. Alla base del tentato omicidio la supremazia territoriale negli affari illeciti. Vediamo. Eseguita alle prime luci del giorno un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone ritenuta a vario titolo coinvolte nel tentato omicidio dei fratelli Raitano commesso il 2 ottobre 2019. Su un mandato della procura di Gele, i carabinieri del comando provinciale dei Caltanissetta hanno arrestato Antonino Raitano, Intesotoni, Ruben Raitano, Giacomo Tuminelli, Giovanni Simonalario, Vincenzo Trubia, Giuseppe Rosario Trubia. L'indagine è stata avviata a seguito del conflitto a fuoco che ha coinvolto i fratelli Raitano e la fazione opposta di Trubia la sera del 2 ottobre 2019 dalla sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile di Via Venezia. Sotto la direzione, il coordinamento e la procura di Gele ha permesso sia di attività tradizionali che di tipo tecnico con intercettazioni telefoniche e ambientali. Grazie alle numerose acquisizioni investigative gli inquirenti sono riusciti a ricostruire allo stato delle indagini il momento del tentato omicidio scaturito dagli accesi conflitti venutisi a creare tra i destinatari della misura cautelare, tutti coinvolti nella spartizione dei proventi derivanti alla commissione di reati contro il patrimonio, il che aveva dato avvio ad una vera e propria catena di violenza tra famiglie rivali, entrambe protese all'allargamento delle rispettive aree di influenza. Dall'inchiesta è inoltre emerso come alcuni degli indagati avessero acquisito la disponibilità di armi da fuoco, l'attività di intercettazione di tipo ambientale a carico degli indagati, in lo specifico di Antonino Raitano, si è rivelata essenziale per arrivare agli arresti. I soggetti coinvolti, quattro in carcere e tre domiciliari sono chiamati a rispondere di diversi reati tra cui quelli di tentato omicidio, rapina aggravata, detenzione e porta abusivo di armi, lesioni personali aggravate, ricettazione, favoreggiamento personale, favoreggiamento reale, minacce, aggravate e violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. E ancora la cronaca, fiamme nella notte in via Matisse, un ruogo probabilmente doloso ha colpito una BMW parcheggiata nella zona. La vettura appartiene al dipendente di un'azienda, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia. La seconda azione di fuoco, dato che nella notte tra lunedì e martedì le fiamme hanno danneggiato un magazzino e dei mezzi agricoli in Contrada, Spina Santa. Adesso apriamo una pagina dedicata naturalmente all'emergenza coronavirus, come ormai facciamo da mesi, però stavolta per dare notizie confortanti i contagi sono in calo e si va verso un ritorno lento ma progressivo alla normalità. Anche la recente campagna straordinaria di tamponi in città avviata dall'ASPA la scorsa settimana conferma il trend positivo di questi giorni. Su 3.000 tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza sono pochissimi i casi di positività al virus. Il dato provinciale è oggi tra i più bassi e la regione. È considerato questo trend il manager dell'ASPA Alessandro Caltagirone non esclude una nuova riorganizzazione dei reparti negli ospedali, finora dedicati esclusivamente al covid, per un progressivo ritorno alla normalità. Vediamo. 116 tamponi in città nella tre giorni lanciata dall'ASPA per recuperare chi fosse per qualsiasi motivo sfuggito allo screening post quarantena, un modo per colmare i tanti ritardi sulle analisi che hanno caratterizzato questi mesi difficili di emergenza. Dei 116 tamponi eseguiti però, solo 19 erano quelli sfuggiti ai radar della regione dell'ASPA. Il resto erano regolarmente presenti nei registri. 116 tamponi che al momento, per fortuna, non hanno scoperchiato nessun caso di positività. Una campagna necessaria, secondo il direttore generale dell'ASPA Alessandro Caltagirone, per mettersi in pari con le richieste di tampone da parte dei cittadini rientrati dalle regioni del nord o dall'estero e riallineare il ritardo accumulato. Noi nei tre giorni di campagna straordinaria che abbiamo fatto il 7, l'8 e il 9 maggio, abbiamo fatto un totale di 116 test e soltanto 19 persone non erano registrate sul portale della regione. Gli altri quindi avrebbero ricevuto comunque il test perché erano a nostra conoscenza. Quindi tutto sommato erano soltanto 19 le persone che non si erano correttamente registrate sul portale. Ovviamente adesso ci saranno delle ordinanze diverse da parte del Presidente della regione, è probabile che le quarantene avranno un'impostazione diversa rispetto al passato. Noi abbiamo un movimento e una coda di rientri che è veramente bassa, quindi stiamo discutendo più o meno di una decina di persone che rientrano giornalmente, per cui basterebbe anche una sola volta alla settimana organizzare questi screening, questi tamponi per sistemare la situazione. Diverse migliaia di tamponi effettuati e chi ha terminato la quarantena qui in città con un trend di positività al virus molto bassa. I contagi intanto si abbassano giorno dopo giorno. Il dato provinciale è oggi tra i più bassi della regione. Sulle quarantene noi abbiamo fatto intorno ai 3.000 tamponi su soggetti che sono rientrati e i positivi asintomatici sono stati veramente pochi, credo che ne abbiamo trovati contati sulle dita di una mano. Parlo di asintomatici perché è successo anche che coloro che sono rientrati, pur essendo i cosiddetti denominati geografici, poi hanno avuto dei sintomi e quindi sono stati trattati in una maniera diversa rispetto a quelli che erano asintomatici e dovevano stare 14 giorni a casa. Riguardo invece ai numeri dei positivi in tutta la provincia nissena, in tutta l'ASPA di Caltanissetta, il trend mi sembra che sia abbastanza positivo e tra i più bassi sicuramente alla regione Sicilia. Sì, i numeri si stanno abbassando giorno per giorno, le guarigioni stanno aumentando, abbiamo detto più volte che i ricoveri sono veramente pochi, le terapie intensive si sono svuotate, quindi il trend è stato assolutamente positivo. È ovvio che tutto dipende dai comportamenti delle persone nei prossimi giorni o quelli che hanno i comportamenti assunti a partire dal 4 maggio e di questo me ne vedremo gli effetti entro una settimana, 10 giorni. Considerato il trend positivo di questi giorni, Caltagirone non esclude una nuova riorganizzazione dei reparti negli ospedali, finora dedicati esclusivamente al Covid per un progressivo ritorno alla normalità. In questo momento stiamo tenendo ancora l'assetto organizzativo precedente che ovviamente è sovradimensionato rispetto ai numeri che abbiamo. Nello stesso tempo stiamo ragionando sulla riapertura dei reparti, quindi a brevissimo, nell'arco di qualche giorno sicuramente ci sarà una riorganizzazione dei servizi in modo tale che le attività possano riprendere progressivamente. Io immagino comunque all'interno dei presidi più grandi degli assetti organizzativi che prevedono un'area mista, cosiddetta area grigia, in cui i ricoveri arrivano lì e poi anche in virtù del risultato del tampone effettuato possano essere smistati nei vari reparti in assoluta sicurezza. Continuiamo a parlare di coronavirus con una storia che avevamo già accennato ieri, sono stati tra i primi a risultare positivi al Covid in città. Nelle scorse ore marito e moglie hanno lasciato l'ospedale Vittorio Emanuele, Angelo Razza e Tiziana Barbuccia sono guariti. Tutti gli accertamenti condotti in questi lunghi mesi hanno dato esito favorevole, Razza a causa delle gravi condizioni era stato collocato in terapia intensiva. È stato il loro personale rientro finalmente dopo due tamponi negativi alla vita normale. I coniugi dimessi nelle scorse ore dal reparto Covid dell'ospedale Vittorio Emanuele fanno salire a 8 il numero complessivo dei guariti in città. Allo stesso tempo non si registrano nuovi casi di positività. Situazione diversa invece a Niscemi, i positivi sono risultati un operatore sanitario che lavora in un RSA fuori dalla provincia di Caltanissetta e un familiare. Sono in corso naturalmente tutte le verifiche positive, anche due pazienti a Caltanissetta. Cinque guariti invece si registrano a San Cataldo e uno a Campofranco. In totale sono 179 i casi riscontrati in provincia. Il trend rimane bene sotto la media, come tra l'altro sottolineava poco fa il direttore Caltagirone. Oggi non si riscontrano focolai di coronavirus che possano alimentare gravi preoccupazioni. E in tempi di coronavirus si torna anche a celebrare i matrimoni. Naturalmente i riti civili al comune di Gela. Oggi ne abbiamo seguito uno in particolare, quello di Rock Aurora, che stamattina hanno coronato il loro sogno d'amore sposandosi proprio all'interno dell'ufficio dello Stato civile al comune. E' il terzo rito civile da quando il comune ha dato via libera ai matrimoni. Impossibile naturalmente per adesso svolgere la festa con gli amici e il resto dei familiari, ma per il momento, per ritrovarsi tutti assieme, arriverà presto e lo dicono gli stessi sposini subito dopo il rito. Vediamo. Io rocco di Dio colgo da Aurora Tuccio come mia sposa e prometto di essere fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Accolgo te come mio sposo e prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io come ufficiale dello Stato civile, in nome della Repubblica Italiana, io mi dichiaro un'edima del muoio. Quando l'amore batte anche la paura del coronavirus e la storia di Rocco e Aurora che hanno coronato il loro sogno di coppia sposandosi oggi all'interno dell'ufficio di Stato civile del comune. E' il terzo rito civile da quando il sindaco ha ridato via libera alla celebrazione dei matrimoni. Prima di loro si erano sposati anche Leonora e Vincenzo e tra maggio e giugno ci sono altri 25 matrimoni in programma. Un sogno concreto quello di Aurora e Rocco così forte da non poter attendere anche a costo di dover fare una cerimonia per pochi intimi. Le regole anticontagio infatti, nonostante siamo già entrati nella fase 2, sono ancora molto stringenti. E così a Palazzo di Città erano presenti solamente i due sposi, oltre ovviamente all'ufficiale di Stato civile Concetta di Liberto e alle testimoni di nozze Jennifer e Francesca. Pochi ma buoni come si suol dire. Nonostante mascherine e distanze di sicurezza il matrimonio di Rocco e Aurora è stato comunque indimenticabile, come ci raccontano i due novelli sposini al termine della cerimonia. Te l'aspettavi un matrimonio così con le mascherine? No, no, assolutissimamente no. Che sensazione è stata? Diciamo un po' tristezza, però giustamente è felice lo stesso perché mi sono sposata. A prescindere da questo coronavirus è bello a prescindere, sì. È stato bello emozionante con tutto il coronavirus e le mascherine, però sono contento lo stesso. Adesso cosa vi aspetta? Adesso vi aspetto un futuro migliore, un bambino. Come si dice in questi casi, il cuore va oltre gli ostacoli e la dimostrazione è la scelta di dirsi sì per la vita anche in questi tempi difficili. Così i due promessi sposi hanno coronato il proprio sogno d'amore durante l'emergenza sanitaria, indossando le mascherine, che però sono scivolate al momento dell'immaccabile bacio. Impossibile per ora svolgere la festa con gli amici e il resto dei familiari, ma il momento per ritrovarsi tutti assieme ci sarà ed è solo rimandato, anche perché il sogno di Aurora è sposarsi in chiesa con un bell'abito da sposa. Le chiese sono chiuse, non abbiamo potuto celebrare il matrimonio in chiesa, però abbiamo fatto lo stesso il matrimonio civile per comunque concludere il nostro sogno. Il prossimo anno ci sposiamo in chiesa. Per entrambi per ora è il ricordo di un mercoledì speciale dove l'amore ha vinto su tutto, anche sul virus. Cambiamo argomento, parliamo dell'IPAB al Disio. Dopo lo stop ai contratti che regavano la casa di riposo e la società privata alla Fenice, ieri i vertici hanno inoltrato una missiva per il licenziamento collettivo di 10 dipendenti, tutti a carico della stessa società. Adesso si apre un pericoloso fronte occupazionale. Vediamo. La scorsa settimana il commissario straordinario incaricato dalla Regione ha disposto di annullare tutti gli atti che avevano consentito all'IPAB al Disio di dare in affitto strutture e servizi alla società privata, alla Fenice. Per il funzionario infatti nell'intero iter ci sarebbero state evidenti irregolarità. Ieri è arrivato il licenziamento dei 10 dipendenti che erano stati assunti proprio dalla Fenice. La comunicazione ufficiale firmata dall'amministratore della società, l'ingegnere Renato Mauro, è stata inoltrata non solo ai dipendenti ma anche alle organizzazioni sindacali, alla procura e ai carabinieri che stanno indagando sulla gestione, alla prefettura di Caltanissette, all'ufficio provinciale del lavoro. Mauro nella missiva scrive di recesso dai contratti. Si tratta dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo. Non c'è più alcuna sede di lavoro, così si legge nella missiva, dato che il commissario dell'IPAB ha disposto che la Fenice lasci le strutture di caposoprano. Il provvedimento di licenziamento e l'avvio della relativa procedura sono stati decisi con una missiva che riporta la data di ieri. Già lunedì l'UGL aveva comunicato di aver richiesto una convocazione in prefettura per valutare l'intera vicenda e il futuro dei lavoratori. Una mossa analoga è arrivata anche dal sindacato USB per un'avvertenza che però riguarda ex lavoratrici dell'IPAB che con la gestione della Fenice erano rimaste fuori dalla struttura. E proprio come sentivamo nel servizio, le quattro lavoratrici che operavano la struttura prima dell'avvento della società privata chiedono che venga rispettato il loro diritto di prelazione. La segreteria provinciale del sindacato USB che le assiste ha deciso di iscrivere al prefetto Cosima Distani e a tutte le autorità coinvolte. Il segretario Luca Faraci chiede la fissazione di un incontro così da definire la posizione delle lavoratrici. Con la richiesta di incontro si fa riferimento non solo all'eventuale reintegro delle dipendenti ma anche alla copertura delle spettanze economiche ancora non ricevute ma già maturate. Tutte questioni che dovranno comunque essere affrontate. Andiamo avanti con un altro servizio. Fino a ieri nessuna convocazione da parte del sindaco Lucio Greco. Sindacati, organizzazioni datoriali e ordini professionali attendono che si possa ritornare a discutere delle misure per il rilancio economico dopo l'emergenza Covid. Allo Stato l'amministrazione comunale non ha varato un vero e proprio pacchetto di interventi. Mirati, Rosario Cauchi. Dopo il nulla di fatto della scorsa settimana le parti sociali attendevano una nuova convocazione dal sindaco Lucio Greco. Fino a ieri però nulla è pervenuto. Sindacati confederali, organizzazioni datoriali, ordini professionali si sono riuniti per cercare di capire quale posizione assumere nei confronti di un'amministrazione comunale che sulla carta avrebbe dovuto mettere sul tavolo il programma di interventi per la fase 2 e la ripresa economica di tanti comparti in crisi sempre più nera il vertice della scorsa settimana privo di indicazioni vere e proprie su come intervenire a supporto di operatori e imprenditori in difficoltà. Si era concluso con l'impegno a rivedersi già nel corso di questa settimana. Si ipotizzava che il tavolo potesse essere aggiornato ad oggi ma al momento manca appunto una convocazione ufficiale da parte del primo cittadino. Lunedì la conferenza dei capigruppo consigliari ha dato il via libera ad alcune deroghe sull'occupazione del suolo pubblico che consentiranno agli esercenti di ritornare a lavorare applicando le misure anti-covid. Sono interventi che riguardano l'immediato ma che certamente non possono essere risolutivi rispetto a quanto causato dall'emergenza covid con aziende ed esercizi commerciali che sono rimasti fermi per mesi. Le proposte delle parti sociali sono state più volte avanzate anche se ad oggi non c'è mai stato un assenso dell'amministrazione comunale. Anche la prima ipotesi sull'uso delle royalties estrattive è stata quasi subito scartata. Non ci sono certezze neanche sulla soluzione che riguarda le compensazioni eni avanzata da una parte della maggioranza del sindaco quella che si rifà al gruppo di una buona idea del vice sindaco Terenzano Di Stefano. Con il blocco totale e l'assenza di un vero piano di intervento sindacati, organizzazioni datoriali e ordini professionali hanno anche sollevato il pericolo usura che potrebbe strozzare ancora di più esercenti che non riusciranno ad andare avanti. I sindacati confederali, le organizzazioni datoriali e gli ordini professionali hanno cercato di avere interlocuzioni costanti con il municipio senza esasperare i toni. L'assenza di risposte dall'amministrazione comunale però potrebbe cambiare le cose. Lungo le strade del centro storico ma non solo si trovano evidenti chiazze di olio di motore che sporcono e rischiano di causare danni. La segnalazione arriva nuovamente dall'Associazione Area Nuova. Il presidente Saverio Di Blasi ieri ha effettuato un sopralluogo lungo corso Vittorio Emanuele accertando la presenza di ampie chiazze sul selciato anche come vedete da queste immagini nella maggior parte dei casi si tratta di tracce che vengono lasciate dai mezzi in transito anche da quelli della raccolta rifiuti. Nessuno però finora provvede a ripulire. E ancora la cronaca stavolta quella giudiziaria era accusato di almeno tre episodi di violenza e danni della moglie che l'avrebbe costretta a avere rapporti sessuali contro la propria volontà. Ieri il GUP del tribunale ha condannato a due anni e sette mesi di reclusione l'operaio finito al centro del caso giudiziario. Vediamo. Due anni e sette mesi di reclusione perché ritenuto responsabile di violenze e abusi sessuali sulla moglie. La decisione è stata emessa ieri nei confronti di un operaio trentenne. Il giudice dell'udienza preliminare Silvia Passanisi al termine del rito abbreviato ha ritenuto fondate le contestazioni avanzate dai PM della procura e la sostituto Mario Calabrese nel corso della requisitoria ha chiesto una condanna ancora più pesante fino a sette anni e ridotta a quattro anni e otto mesi in relazione al rito scelto dalla difesa illegale dell'imputato l'avvocato Maurizio Scicolone ha nuovamente messo in discussione la versione della moglie dei PM che l'hanno sostenuta ribadendo che non ci sarebbe stata alcuna violenza l'operaio non avrebbe mai imposto rapporti sessuali alla consorte contro la sua volontà secondo quanto spiegato dal legale la denuncia sarebbe arrivata al culmine di un rapporto matrimoniale in crisi sono state prodotte conclusioni del tutto difformi rispetto a quanto sostenuto dall'accusa sotto esame sono finiti anche referti ospedalieri che non avrebbero dato alcuna prova di ferite riconducibili a violenza fisica la donna non si è costituita a parte civile nel giudizio abbreviato già in fase di indagine lo stesso legale l'avvocato Marzia Cammarata hanno effettuato indagini difensive per acquisire elementi a favore dell'operaio per la procura però le violenze e gli abusi sono stati confermati anche da quanto sostenuto dalla vittima lo scorso anno l'imputato venne arrestato e sottoposto a detenzione in carcere anche se successivamente la misura venne revocata gli venivano contestati almeno tre diversi episodi il GUP nella lettura del dispositivo ha riconosciuto le attenuanti e la difesa ha già preannunciato appello bene questo era il nostro ultimo servizio siamo in chiusura naturalmente se volete approfondire tutte le nostre notizie le trovate sul nostro sito www.quotidianogela.it se invece volete rivedere tutti questi servizi della telegiornale li trovate sulle nostre pagine social facebook e youtube per il momento è tutto non ci sono altre notizie grazie per averci seguito arrivederci a tutti grazie a tutti Grazie a tutti